Buon pomeriggio ragazzi, rieccoci con la quattordicesima puntata di Giovani Bianconeri che sarebbe dovuta uscire venerdì scorso, soltanto ultimamente ho molto da fare e quindi ho dovuto rinviarla un'altra volta. Allora, parliamo di un difensore della Juventus Standard 23, un suo idolo è Sergio Ramos, tanto da essersi procurato grazie a Morata i suoi pantaloncini prima di Natale. Sto parlando di Filippo Dellicarri, classe 99, il 3 maggio compirà 22 anni, è prodotto delle giovanili del Pescara, ha giocato infatti con l'under 19 proprio degli abruzzesi nelle stagioni 15-16, 16-17, è stato anche varie volte in panchina con la prima squadra in Serie A nel 2016-17 ma non è mai sceso in campo per il debutto. Invece il suo debutto arriva in Coppa Italia il 6 agosto dello stesso 2017 contro la Triestina, debutta e gioca tutti e 120 minuti nella vittoria 5-3 ai supplementari contro i Fiulani. Per quanto riguarda il suo passaggio alla Juventus avviene il 31 agosto del 2017, quindi una ventina di giorni dopo, e ha giocato per l'under 19 della Juventus nel campionato Primavera 1 nella stagione 2017-2018 senza essere mai convocato in prima squadra. Il primo ottobre dell'anno dopo invece va in prestito a Rieti e ha fatto il suo debutto in Serie C il 29 settembre del 2018 in una partita contro la Cavese come sostituto nell'ultimo minuto per Thomas Vasiliu. Suo padre è Daniele Dellicarri e in Serie A ha giocato con varie squadre, con la Fiorentina, con il Siena, con il Torino, con il Piacenza e anche con la Maglia del Genoa nelle stagioni tra gli anni 90 e quelle 2000. Allora, si è conquistato la titolarità nella Juventus Under 23 perché? Per le sue qualità. Il difensore sta collezionando in Lega Pro prestazioni convincenti in Serie e la continuità è proprio uno dei suoi punti forti. L'affidabilità, il tempismo e la precisione nei tegol hanno convinto il tecnico Lamberto Zauli a schierarlo con una certa regolarità. Nel corso di un'intervista a Juventus TV ha dichiarato di ispirarsi a Giorgio Chiellini. La determinazione nella fase difensiva, in effetti, ricorda molto lo spirito del capitano della prima squadra, anche se ammira molto Sergio Ramos, come abbiamo detto prima. Il difensore dell'Under 23 partecipa molto di più allo sviluppo del gioco rispetto a quello che fa Chiellini, ha buone proprietà tecniche e spesso è il primo che, in fase di costruzione dal basso, diciamo si prende la responsabilità di effettuare delle verticalizzazioni e far avanzare la squadra. Rimane una macchia però l'espulsione contro il Renate prima della pausa natalizia, soprattutto per gli effetti nefasti che ha avuto all'interno di un match delicato e che fino a quel momento i bianconeri stavano pareggiando. Renate, ricordiamo che all'epoca era anche la capolista, adesso è il Como nel girone A di Serie C. Scontata la squalifica, ha continuato a collezionare prestazioni di alto livello e sta continuando tuttora dimostrando a Zauli che può puntare su di lui e ha fatto la scelta giusta e spera ovviamente di non rimpiangerla. Bene, questo è il quanto. È stato convocato più volte in prima squadra con la Juventus in campionato, in Coppa Italia e spero che un giorno possa fare il suo debutto e si metta in mostra perché secondo me potrebbe diventare un buon prospetto e se viene schierato anche con una certa regolarità, magari in partite minori, potrebbe far valere tutta la sua qualità e le sue doti. Allora, va bene, questo è il quanto. Noi ci vediamo stasera per il post partita di Juventus-Crotone e con Giovani Bianconeri ci vediamo domani e parleremo di un altro prospetto dell'Under 23. È stato convocato una volta in Coppa Italia ma non ha mai giocato. Ecco, va bene. Ciao ragazzi, a stasera.